piccolo robotino non è possibile, Andy Andy ci hanno ingannato di nuovo avete l'oro? sì, capo l'oro è in un posto sicuro sapete cosa dovete fare adesso? ah, e non voglio sorprese chiaro? sì, sì, chiarissimo e allora fatelo wow, wow, wow come un vero pilota ciao wow, ti piace la mia nuova moto? è bellissima, Amy hai degli ottimi gusti beh, se vuoi puoi farci un giro ma solo per poco solo un giretto devo ancora godermela del tutto grazie mille per l'offerta, ma... ecco qua cosa te ne pare? wow, è bellissima ok, allora ti sfido in una gara vediamo di cosa sono capaci queste moto andiamo, Andy Andy via, forza dai, Andy Andy, seguimi perché vai così piano? ah, queste ragazze aspetta solo un secondo, Amy e ti faccio vedere io come si guida e adesso cosa dici? hai visto? aspetta a cantare vittoria arriverò prima lo stesso forza, vai! wow, che forza! stiamo andando velocissimi yoohoo! e quello chi è? che velocità! wow! inseguiamolo! le nostre moto non sono peggio della sua andiamo! Amy, aspetta! non andare così veloce! aspettami! ehi! mi fai Amy, fermati! Aspetta! Questo motociclista mi ricorda qualcuno! Chi ti può ricordare? Come sei noioso, Andy Andy! Era una gara! Ma tu hai continuato a ripetermi di fermarmi! Non sono una bambina, posso andare dove mi pare! Non sei una bambina? Ma ecco, guarda chi hai inseguito! Oh no, 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 no! Non è possibile! Non ci credo! Non può essere vero! Mi hanno rapita, imbavagliata e abbandonata nel capanno del bosco! Sì, sono proprio Razer e Rocco! Dobbiamo nasconderci e chiamare subito la polizia! Pronto polizia! Agente, abbiamo bisogno del vostro aiuto! Venite subito alla discarica delle macchine! Razer e Rocco sono qui! Oh no, se ne stanno andando! Non possiamo perderli! Seguiamoli, Amy! Fate attenzione, Andy Andy! Stiamo arrivando! Non possiamo farci vedere! O rovineremo tutto quanto! Non possiamo farceli sfuggire un'altra volta! Ci sta seguendo qualcuno, Rocco! No, tutto tranquillo, vai! Dobbiamo ormeggiare la barca più vicino, è troppo lontana! Ok, andiamo allora! Non preoccuparti, non succederà niente a loro! Il porto è deserto! Non muovetevi! Siete circondati! Arrendetevi! Fine della corsa! Scappiamo, Rocco! Dobbiamo metterci in salvo! Presto! Il capo ci ucciderà! Abbiamo lasciato l'oro nel furgone! Non pensare all'oro! Andiamo! Almeno riporteremo l'oro rubato alla banca! Ah, sono riusciti a scappare di nuovo! Ma non fa niente! Un giorno li prenderò di sicuro! Garantito! Grazie per aver guardato il nostro cartone, bimbi! Per favore, scegli cosa puoi vedere ora! Abbiamo molti, molti cartoni interessanti!